Si è svolto presso il Centro Internazionale per la Formazione e l'Informazione Veterinaria Francesco Gramenzi dell'IZS Abruzzo Molise un incontro per illustrare le nuove collaborazioni scientifiche in cantiere tra l'IZS e la Tunisia che coinvolgono il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell'Ambasciata Italiana Tunisi. La pandemia da Covid-19 è un problema globale e per questo l'Istituto ha avviato da mesi collaborazioni scientifiche internazionali soprattutto con Libia, Namibia e Tunisia. Noi abbiamo sempre avuto rapporti, almeno da circa 20 anni, con la Tunisia ma fino adesso si trattava di rapporti con il Ministero dell'Agricoltura e con i Servizi Veterinari. Oggi ci allarghiamo e facciamo un primo approccio, l'accordo non è ancora siglato, un primo approccio con il Ministero della Salute. Il Covid ha fatto da apripista, diciamo che i rapporti con le asla abruzzesi sono stati un esempio e quindi il nostro nome è girato e adesso anche in giro per il mondo ci cercano per avere delle collaborazioni di questo genere. Oggi c'è anche il rappresentante dell'OMS Tunisi, ricominciamo a lavorare in modo importante anche con l'OMS oltre che con la FAO e con l'OIA. A fine luglio 2021 i laboratori terramani hanno ospitato i primi due ricercatori tunisini che si sono formati in città sul sequenziamento del genoma del SARS-CoV-2 attraverso un progetto finanziato dall'OMS che proseguirà anche nel 2022. Questo è sicuramente un progetto innovativo che guarda al futuro ed è un progetto che ha la bellezza di apportare dei vantaggi all'una e all'altra parte. Quello che viene detto è un progetto win-win dove non è tra pari appunto. Interesserà sia l'istituto Pasteur in Tunisia che appunto l'istituto zooprofilattico sperimentale di Abruzzo e Molise legato sia appunto al Covid, alle varianti Covid che si sono sviluppate e che speriamo però non si svilupperanno ulteriormente, ma anche a tutto un altro ambito legato ai vaccini, all'antibiotico resistenza in particolar modo ed è forse anche quest'ultimo aspetto tra i più anche accattivanti, anche tra le sfide più grandi che ci aspettano.